ecco domenica è livello 11 ma bucci tre saghe versione pc domenica 22 dicembre 2019 inverno è visto? visto? si no? perfetto super perfetto che strano non lo so sapete fare? sapete fare questo? già che è fatto è inverno questo è solo inverno vabbè uccio inizioni però cosa sembri c'è? devo fare di più è andato più facile semplice sempre semplice sempre semplice sempre da sempre tre minuti di registrazione il gioco è fatto ah ah bel colpo ah oh 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 o o o o o o pociugiamo Questa è la 13 Minimelle bolle Ricordate Bubble Bubble Per eliminare tutte le bolle Non so cosa Qua Qua Va bene Tutto va bene Wow Dillimitati Ultimo Judici Ether Tutto F transferring Un'unimoscol edited Felicita Stuff Fli Intent Servicita Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 venti come due minuti colpo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.